Sono partito da Virgilio, che è colui che accompagna Dante nell'Inferno e nel Purgatorio, poi a seguire a Socrate, poi c'è Cerbero, ci sono i maghi, c'è Minosse, ci sono altre figure come Flejas, e in fondo c'è anche Ulisse, che è la figura più importante che rappresenta anche l'uomo. Si chiama oltre il visibile Dante 1321-2021 la personale di Vincenzo Nasuto, ospitata nell'atrio d'onore della provincia di Arezzo. Durante il lockdown ho realizzato 10 disegni attraverso la mia tecnica che è multiespressiva e da questi poi ho fatto dei foulard in modal seta. I 700 anni dalla morte del suomo poeta sono infatti diventati per l'artista l'occasione per celebrare la Divina Commedia con un nuovo progetto, 10 grandi foulard realizzati a stampa con coloranti reattivi ed una tavola eseguita con gesso e vernici. Ho deciso di scegliere l'inferno perché comunque è la parte che è più letta in tutto il mondo ed era quella che anche mi permetteva di esprimermi in modo più libero. Naturalmente la difficoltà che ho trovato era quella di rappresentare quelle che erano le immagini e le storie truci dell'inferno in un modo più gentile e trasportarle nei foulard. Quindi la mia tecnica è stata molto laboriosa e le figure che ne sono uscite non sono così forti e quindi permettono anche a chi indosserà il foulard di avere un'immagine molto colorata e direi bella.